Il GIP del Tribunale di Napoli non ha accolto la richiesta di archiviazione per le cinque persone accusate da Tiziana Cantone di aver diffuso in rete le immagini che la ritraevano nuda senza il suo consenso. Sulla testa di Antonio Villano, Cristiano Rollo e i fratelli Enrico e Antonio Iacuzzi e di Luca Sappo pende un'inchiesta per diffamazione che per il PM è chiusa, ma per il giudice invece ci sono ancora troppi interrogativi. Si ripercorre la storia a ritroso, partendo da quelle foto e video che Tiziana aveva inviato ai cinque ragazzi conosciuti in rete e poi finite nella rete web. Il giudice vuole vederci chiaro, non convincono le risposte di WhatsApp e l'ultima denuncia presentata dalla stessa Tiziana. Così il magistrato ha fissato un'udienza per il 17 gennaio. In quella occasione ci saranno tutte le parti in causa, i cinque ragazzi e anche il PM che dovrà argomentare sulla decisione dell'archiviazione. Da un lato gli accusati, dall'altro il PM e in mezzo la difesa della reputazione di una giovane morta per essere stata perseguitata, cosfottò sul web. Ora l'indagine va avanti, la procura avrà tutto il tempo per ascoltare gli indagati. Andrà a verificare perché la denuncia di Tiziana è stata ferma e poi le accuse ritratta dalla stessa giovane. Solo dopo tutti questi accertamenti il GIP deciderà se rinviare a giudizio i giovani e chi altro è coinvolto nella vicenda. Un processo che si aprirà davanti ai giudici del Tribunale di Napoli dove la grande assente sarà proprio Tiziana, morta prima di ottenere giustizia.